Come ho detto la settimana scorsa, sono contento, mi sembra che l'energia che hanno messo i ragazzi nell'allenamento è fantastica, è tutto più facile quando i giocatori che hanno stato con noi l'anno scorso arrivano con una sorrisa, la voglia di stare con noi allenando in agosto, prima settimana di agosto è più facile per me, alla fine se i giocatori non vogliono fare, anche io se un allenatore bravissimo non lo posso fare, senza giocatori non ho niente. Hai scelto Nico come capitano? Stiamo parlando, stiamo parlando, prima se lo voglio dire alla squadra tutto, se lui dice che sì e tutto siamo nel stesso foglio è una possibilità, devo aspettare a tutta la squadra per finire la scelta. Senti quest'idea di che sia una squadra più difensiva, quindi è confermata come impostazione, è un'idea di barba? Sì, l'idea prima è attaccare della difenza, noi vogliamo essere una squadra che attacca, ma cominciamo dalla difenza, la difenza nostra è brava per fare stoppate e alla fine nell'attacco sarà più facile, questo è lo che è, se tu devi prendere la palla del canestro sempre andare ad attaccare 5 con 5 sarà più difficile, quindi lo che io le ho proposto alla squadra è cominciamo ad attaccare della nostra difenza per fare la cosa più semplice in avanti. Il modello più europeo che americano? Io penso che è il modello Varese, alla fine non lo penso, io sono argentino, Nicomagnon è argentino-americano, lui è scola argentino, Marco Levi cialiano, non penso che europeo-americano è lo che io penso che è migliore per Varese e adesso è il modello Varese. Per quanto conta l'allenamento di oggi? Abbiamo visto anche un accenno di zona con un cavo davanti in punta, una volta poi prato in punta e state costruendo questo tipo di difesa? Alla fine lo che stiamo costruendo adesso è la nostra base, come vogliamo difendere uno contro uno come vogliamo che quando uno perde uno contro uno sapere che la squadra lo difenderà lui e alla fine se tu sei una squadra brava facendo rotazione ma tu lo fai tutto il tempo tu sei una squadra mala, se tu puoi fermare l'uno contro uno senza nessuna rotazione tu sarai una squadra più brava di difesa, questo è quello che noi vogliamo e alla fine Keo difenderà la punta o magari difenderà l'angolo e nel uno contro uno anche perché se tu giochi con un cinque tiratore lui difenderà questa posizione. Alla fine stiamo pensando a costruire piano piano per mettere lo che noi diciamo Alex a No più avanti. Sensazioni sui nuovi giocatori, nuovi americani? Le sensazioni sono le migliori, abbiamo fatto la scelta sapendo che loro possono fare e un po' nella cultura di parese è prendere un giocatore che ha cinque punti, sei punti o nove punti e diventarlo in sei, sette, otto, nove e migliorarlo. Noi pensiamo che il miglioramento del giocatore individuale non è che tu migliori il giocatore e tu perdis la partita. Noi vogliamo vincere la partita di essere una squadra bravissima tutta la domenica ma anche migliorando il giocatore giorno tra giorno. Grazie